Allora, bambini, facciamo la foto, calmatevi! La fila in fondo, voltatevi, per favore! Io sono Nicolà, ho otto anni e voglio raccontarvi la mia vita. Allora, i miei compagni. Al sesto è il mio migliore amico. È un po' ciccione e mangia sempre. Gluter, che cosa ho detto? Gluter è il peggiore della classe. Ha la giustificazione dei miei genitori. Chi l'ha scritta questa? Agnon è il primo della classe. Maestra, lui copia! E il cocco della maestra. Non mi potete picchiare agli occhiali. Togliti gli occhiali e dimmi cosa leggi. Ti ho detto di toglierti gli occhiali. Ci sono quelli che amo di più al mondo. La mia mamma e il mio papà. La drizza, la drizza, la drizza, la drizza, la drizza, la drizza. Smetti la guerra, drizza, mi fai perdere la concentrazione. Devo dire che papà e mamma litigano spesso. Lo riporto, lo appoggio, che faccio? Non mi stressare, non mi stressare! Non sopporto di essere angosciata. Ma alla fine si risolve tutto. Va bene, metterlo lì allora. Beh, quasi sempre. Il signor Mosh Boom è il capo di papà. A proposito del mio aumento e del posto che si libera... Vedremo più avanti. Piuttosto ho un piccolo favore da chiederle. Quello ti sfrutta e tu glielo lasci fare. Va bene, mando tutto a quel paese e così sarai soddisfatta. Nicolà, fa la valigia. Andiamo a vivere in una roulotte. Fico, vado a fare la valigia. E se invitassimo il signor Mosh Boom a cena? Che cos'è? È astice con maionese. Per te ci sono dei buonissimi ravioli al pomodoro. Sapeste quanto sono stufo della gente che si sente in dovere di farmi l'astice con la maionese? Scusatemi un attimo soltanto. Ecco qua. Mamma, mamma! Seduti! In piedi. Seduti! Silenzio! Il film che ha già fatto ridere dieci milioni di spettatori grandi e piccoli. Quello che posso dire è che la mia vita è bellissima. E non voglio che cambi. Nicolà? Sì? Non sposarti mai? D'accordo. Il piccolo Nicolà e i suoi genitori. Dal 2 aprile al cinema.